Macari, le anticipazioni della terza e ultima puntata. La terza puntata di Macari 2 sarà anche l'ultima e andrà in onda lunedì 21 febbraio. Vedremo che Teodoro scompare per alcune ore, tutti si chiedono dove sia. Purtroppo verrà ritrovato morto alle pendici di un'altura. La polizia, che interviene sul posto, sembra convinta che si tratti di un incidente, vuole archiviare il caso. Saverio, invece, diversamente dalla polizia, è convinto che il capo di Suleima sia stato ucciso e così si mette ad indagare. I ragazzi della comunità del sole, però, non sono affatto contenti dell'intromissione di Saverio. Suleima e la manna sono sempre più lontani, anche perché Suleima è d'accordo con la comunità del sole, non pensa che la morte di Teodoro si tratti di omicidio. Trova fuori luogo l'intromissione del fidanzato e si stringe attorno alla comunità del sole per farsi consolare, anche se Saverio è raccorso sul posto proprio per stare vicino alla sua fidanzata. Ma Saverio non demorde, vuole scoprire che ha ucciso Teodoro e così continua ad indagare, nonostante Suleima si stia allontanando da lui e, alla fine delle indagini, potrà capire se i due avranno un futuro oppure no. La cosa sorprendente è che la manna ha sempre visto Teodoro come un rivale, ma adesso è proprio lui che deve cercare giustizia per Teodoro. Ma indagare sulla vita dell'uomo significa anche indagare sulla comunità del sole, che è una comunità molto chiusa. È possibile che i componenti della comunità abbiano paura che indagando esca fuori qualche segreto.